E' tutto regolare? Siamo a posto? La scorsa ha disturbato il sistema. No, signore, ci vuole ben altro per me. Signore! Sì, c'è un ispettore che chiede un benestare. Non trova la signora Sponder. Quanta è la giocata? Dieci milioni. Rulette. Va bene. Prendila. Sì. Allora, signori, abbiamo una combinazione di tre numeri. Undici, dodici e tredici. Lei è a campo qui dentro? È impossibile. Non con questo telefono. Sì, scusate. Pronto? Solo bene. C'è un'interferenza sul server uno. Pronto? Di che tipo? Non lo so. Pronto? Il server uno si sta bloccando. Oh no, c'è qualcosa in questa sala. È l'unica spiegazione, una sorta di magnetron. Il server 3 comincia a dare i numeri. Un magnetron? Chi ce l'ha al magnetron? Insomma, chiunque è che in questa sala. Tutte le persone in questa sala vuotate le tasche! Subito! Ma che succede? Che significa? Oh no, ma che diavolo è? Misure di sicurezza. Quando il sistema avverte un pericolo, si chiude e si riavvia. E quanto ci metti? Tre minuti e venti secondi. Snake Eyes, tutto quanto. Cosa? Quel figlio di bottano. Non possiamo accettare scommesse finché non torniamo attivi. Il sistema è in blocco totale. Tutte le chiamate in entrata e in uscita sono protette, ma sfortunatamente è il sistema a proteggerle. Le ripeto, signora, in blocco totale. Stiamo riavviando. Proviamo operativi. Sì, fra tre minuti. Ultima giocata. Forza, 11. Sì, fra tre minuti. Sì, fra tre minuti. Stiamo riavviando. Grazie a tutti.